La leggiadrissima Wanda, o come si leggeva nel suo passaporto, la rispettabile cittadina Nastasia Kanavkina, uscita dall'ospedale, si trovò in una situazione quale prima non aveva mai conosciuta, senza tetto e senza soldi. Come fare? Prima di tutto andò al Monte di Pietà a impegnare l'anello con la turchese, l'unico suo gioiello. Le diedero un rublo, ma che cosa si compra con un rublo? Con tale somma non ci si compra né una camicetta corta alla moda, né un cappello alto, né un paio di scarpine color bronzo. E senza queste cose, ella si sentiva come nuda. Le pareva che non solo agli uomini, ma perfino ai cavalli e ai cani, la guardassero e ridessero della semplicità del suo vestito. E pensava soltanto al vestito, che il problema che cosa avrebbe mangiato e dove avrebbe pernottato, non l'agitava per nulla. Se incontrassi almeno un conoscente, mi farei prestare del denaro, nessuno me lo rifiuterà perché... Ma di conoscenti non ne incontrava. La sera al Renaissance non è difficile incontrarne, ma al Renaissance non ti fanno entrare in un vestito così semplice e senza cappello. Come fare? Dopo un lungo tormentarsi, che non ne poteva già più di camminare e di star seduta e di pensare, Wanda decise di attaccarsi al mezzo estremo. Andare da qualche conoscente direttamente a casa e chiedergli del denaro. Ma da chi andare? Rimuginava fra sé. Da Miscia è impossibile a famiglia. Wanda, il vecchio dai capelli rossi adesso è in ufficio. Wanda si ricordò del dentista Finkel, un ebreo battezzato, che tre mesi prima le aveva regalato un braccialetto e al quale una volta, durante la cena al circolo tedesco, aveva versato sulla testa un bicchiere di birra. Ricordandosi di questo Finkel, ella si rallegrò straordinariamente. Di certo me ne darà, se però lo troverò in casa, pensava andando da lui, e se non mi darà nulla, mi spaccherò tutte le lampade di casa. Quando arrivò alla porta del dentista, aveva già pronto il suo piano. Sarebbe corsa su per le scale. Ridendo, si sarebbe precipitata nel gabinetto e avrebbe chiesto venticinque rubli. Ma, accostata appena la mano al campanello, il piano, chissà come, di per sé le era già uscito di mente. Vanda, ad un tratto, cominciò ad avere paura e ad agitarsi, cosa che prima non l'era mai accaduto. Ella era ardita e sfrontata solo in compagnia di ubriachi. Ora, con indosso un vestito qualunque, col sentimento di farla parte di una volgare questuante, che poteva anche non essere ricevuta, si sentì timida e umiliata. Ebbe vergogna e paura. Forse si è già dimenticato di me, pensava, non risolvendosi a tirare il campanello. E come mi presenterò a lui in questo vestito? Sembrano una pezzente o una borghesuccia qualunque. E con indecisione, sonò. Dietro la porta, si sentirono dei passi. Era il portiere. Il dottore è in casa? domandò il. In quel momento le avrebbe fatto piacere se il portiere le avesse detto di no. Ma quello, invece di rispondere, la fece entrare in anticamera e le tolse il paltò. La scala le sombrò lussuosa, magnifica, ma di quel gran lusso, prima di tutto, le saltò agli occhi un grande specchio, nel quale vide una cenciosa senza cappello alto, senza camicetta alla moda e senza scarpette color del bronzo. E le sembrò strano che adesso che era vestita poveramente e somigliava a una cucitrice o a una lavandaia, facesse alla sua comparsa la vergogna e non la sfrontatezza, l'ardire, e nel pensiero non si chiamò più Wanda, ma come prima, Nastasia Kanavkina. «Prego», disse la cameriera accompagnandola nel gabinetto, «il dottore vien subito, accomodatevi». Wanda si lasciò cadere in una morbida poltrona. Così gli dirò, «fatemi un prestito», pensava, «la cosa è decente perché siamo conoscenti». Se però la cameriera se ne andasse, in presenza della cameriera è imbarazzante, perché sta lì impalata. Dopo cinque minuti si aprì la porta ed entrò Finkel, l'ebreo convertito, un uomo alto e abbronzato con le guance grassottelle e gli occhi un po' sporgenti dalle orbite. Le guance, gli occhi, la pancia, le grosse cosce, tutto in lui era ben pasciuto, ripugnante, duro. Alla renaissance, al circolo tedesco, egli andava per divertirsi, spendeva un mucchio di soldi per le donne e pazientemente ne sopportava gli scherzi. Per esempio quando Wanda gli aveva versato la birra sulla testa e gli aveva soltanto sorriso e minacciato col dito. Adesso invece aveva un'aria arcigna e assonnata e guardava con importanza freddamente come un superiore e masticava qualcosa. «Che desiderate?» domandò senza guardare Wanda. Wanda gettò un'occhiata al viso serio della cameriera, alla figura sazia di Finkel, che evidentemente non l'aveva riconosciuta, e arrossì. «Che desiderate?» ripetè il dentista già irritato. «I denti mi fanno male», mi svegliò Wanda. «Ah, quali denti? Dove?» Wanda si ricordò che aveva un dente cariato. «Giù, a destra», ella disse. «Hm!» aprite la bocca. Finkel si rabbruscò, trattenne il respiro e cominciò ad esaminare il dente malato. «Fa male?» domandò scavandone il dente con un ferretto. «Male!» menti Wanda. «Se glielo ricordassi, pensava, certamente mi riconoscerebbe. Ma la cameriera? Perché sta lì imparata?» Finkel a un tratto cominciò a sbuffarle dritto in bocca come una locomotiva e disse «Non vi consiglio di otturarlo, tanto non vi serve già più a nulla lo stesso». Dopo aver scavato ancora un pochino nel dente e sporcate le labbra e le gengive di Wanda con le sue dita tabaccose, trattenne di nuovo il respiro e le ficcò in bocca qualcosa di freddo. Wanda a un tratto sentì un dolore terribile, cacciò uno strillo e afferrò la mano di Finkel. «Niente, niente!» borbotò egli. «Non spaventatevi, tanto questo dente non vi servirebbe a nulla. Siate coraggiosa!» E le dita tabaccose, coperte di sangue, le misero davanti agli occhi il dente strappato. La cameriera si avvicinò e le portò una tazza alla bocca. «A casa sciacquatevi la bocca con acqua fredda», disse Finkel, «e il sangue si fermerà». Stava davanti a lei, nella posa di un uomo che aspetta che l'ospite se ne vada e lo lasci in pace. «Addio!» disse Irla, avvolgendosi alla porta. «Ehi, e chi mi pagherà il mio lavoro?» domandò Finkel con voce ridente. «Ah, sì!» si ricordò Wanda. «Arrossì e diede all'ebreo convertito il rublo che aveva appena avuto al monte di pietà per l'anello con la turchese». Uscendo nella strada, ella sentiva ancora più vergogna di prima, ma adesso non la mortificava la miseria. Non si accorgeva già più di non avere né un cappello alto né una camicetta alla moda. Camminò per la strada, sputando sangue, e a ogni sputo le parlava della sua vita non bella e grave, delle offese che aveva sopportato e ancora avrebbe sopportato domani. La settimana prossima, l'anno venturo tutta la vita, fino alla morte. «Oh, com'è terribile!» vi sbrigliava Frassé. «Com'è terribile, mio Dio!» Del resto, il giorno dopo, ella era di nuovo a Renaissance, a ballare. Aveva un nuovo cappello rosso, enorme, una nuova camicetta alla moda e le scarpette color bronzo. E la cena le fu offerta da un giovane mercante, arrivato da Kazan. La cena le fu offerta da un giovane mercante, arrivato da un giovane mercante, arrivato da un giovane mercante, arrivato da un giovane mercante.